Grazie Presidente, come è stato detto anche dal collega che è intervenuto precedentemente, questa mozione ha un problema giuridico fondamentale, a mio modesto avviso, anche io non ho delle conoscenze così approfondite di diritto amministrativo, ma qualcosa sì, ovvero con questa mozione si chiede un affidamento diretto, ovvero qualcosa che non si può fare, perché questo è un affidamento che si è interrotto per svariati motivi a novembre dello scorso anno e praticamente adesso si chiede di ripristinarlo nelle more della nuova gara, quindi ci sembra non perfettamente corretta dal punto di vista giuridico questa richiesta. Ovviamente siamo ben consapevoli che è necessario, anzi è fondamentale un servizio di rimozioni a Roma, questo ne siamo più che consapevoli, so che l'assessorato insieme al Dipartimento stanno lavorando in maniera veloce e determinata per ripristinare il prima possibile questo servizio, ci sono ventilate varie ipotesi, anche quella di affidarsi a delle società in house di Roma Capitale, perché è appunto un servizio fondamentale, non possiamo tollerare, su questo sono d'accordo con i promotori di questa mozione, non è possibile tollerare auto in sosta selvaggia, auto che intralciano il trasporto pubblico, anche perché qui sì, riprendendo un po' di diritto questa volta penale, l'interruzione di pubblico servizio dovrebbe essere un reato e quindi su questo ci stiamo impegnando tra l'altro già da subito con la Polizia di Roma Capitale a presidiare maggiormente il territorio ed elevare soprattutto le sanzioni amministrative per chi non rispetta il codice della strada e in particolare per chi non rispettando il codice della strada intralcia un servizio pubblico e quindi di tutti. Grazie Presidente.